Ciao a tutti io sono Emi e benvenuti a una ricetta con Orietta Oggi faremo gli spiedini peace and love Sono super facili da fare, l'unica cosa che vi servirà sono i prodotti IGP e DOP della nostra regione Spiedini super emiliani E poi fate voi i vostri mix, io ho aggiunto pomodorini, olive, mozzarella, verdure grigliate, un po' di cose e sono usciti stra buoni Date libero spazio alla fantasia e buon appetito Bebe, 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 bebe